può capitare che dopo un prelievo consistente di denaro di essere contattati da persone che si spacciano per dipendenti dell'istituto bancario oppure dell'ufficio postale fate attenzione con false affermazioni controllo delle banconote che sono state segnate presunti errori a vostro svantaggio appena avete fatto il prelievo queste persone cercano di farsi consegnare il contante il vostro contante in genere i truffatori operano in coppia e una delle due persone distrae la vittima crescita con richieste varie e con una piacevole conversazione le forze di polizia competenza generale polizia arma dei carabinieri guardia di finanza ci indicano che nessuna banca manda i propri dipendenti a casa dei clienti per servizi di questo tipo anche noi della polizia locale contribuiamo a questo messaggio non fatevi truffare con i prelievi